Buongiorno di quattro novembre. Gesù attraverso una parabola che racconta di fronte alla solita ingegnazione dei farisei e gli scrivi, cioè degli ipocriti formalisti rispettosi della legge formale che lo accusano di mangiare insieme ai peccatori pubblicani e Gesù racconta questa parabola. Un uomo pastore che aveva cento pecore, ne perde una nel deserto e corre a cercarla lasciando che le altre rimangano in attesa, cioè destina una parte significativa del suo tempo a cercare quella pecora e quando la trova se la mette in spalla gioioso e torna a festeggiare la pecorella ritrovata e poi racconta anche sempre Gesù di una donna che aveva dieci soldi e ne perde uno. e si dà da fare per cercarlo nella casa ed è felice quando trova quell'unico soldo. Esprime la sua gioia condividendola con i vicini, cioè esprime la gioia per un soldo, non per dieci che possedeva, così come quel pastore esprime la gioia la condivise per la pecora ritrovata, non per le cento pecore che aveva. Ecco, Gesù ci invita a essere in sintonia, vicini, presenti, cercare i devianti, i pecatori, gli ultimi della terra, lasciando perdere anche coloro i quali hanno già provveduto alla loro conversione, almeno così speriamo, o comunque non hanno bisogno di essere cercati. La centralità del messaggio di Gesù è proprio questa convivialità con il pecatore, non l'allontanamento del pecatore da un luogo mitico, moralista nel quale si esprime la gioia di esserci. No, la gioia si esprime nel ritrovare. In questo gesto straordinario di attenzione e di conversione, tutti noi possiamo essere a pecorella sparita, sia chiaro, e tutti noi siamo chiamati comunque, senza presunzione, di mangiare insieme con il pecatore, così come faceva Gesù, magari anche scandalizzando i formalisti della legge. Vedete, Gesù non ci insegna una trasgressione, ma un modo di vivere radicalmente diverso, intriso di attenzione e presenza nei confronti di coloro i quali sbagliano, perché tutti noi possiamo sbagliare, questo sia chiaro, ma l'atteggiamento del cristiano deve essere quello di essere in ricerca costante del pecatore, non in difesa dell'esistente, di ciò che ha già. È un invito al cammino, alla conversione che riguarda ciascuno di noi, perché la conversione è proprio in quel gesto di ricerca e di gioia quando ci ritrova l'altro, in un cammino di trasformazione, in un cammino di gioioso amore nel ritrovare l'altro che si era perduto. Noi abbiamo invece la tendenza di isolare l'altro che si perde, pensando che sia qualcosa da tenere lontano, sorta di difesa dell'esistente, no? Gesù ci invita ad andare oltre l'esistente, a non accontentarci di ciò che abbiamo, ma di ricercare costantemente l'altro che si è perso. In questa ricerca costruiamo un'immagine perfetta della gioia infinita che è espressa nell'infinita misericordia di Dio che gioisce per ogni peccatore che venga ritrovato e questo è il centro della nostra azione. La difficoltà anche del nostro agire, siamo troppo tesi alla difesa dell'esistenza, molto poco propensi a ricercare l'altro che si è perso. Buona giornata a tutti.